Qual è un sistema veloce per capire se la difesa personale che ti stanno offrendo fa il caso tuo o no? La difesa personale è un problema complicato, ma questo non vuol dire che nello scegliere dobbiamo utilizzare strategie complicate. Chiaramente ci vuole discernimento, chiaramente informarti sull'istruttore, sulla scuola è un'ottima cosa, ma poi stringi stringi, tu se stai cercando un sistema di difesa personale, molto spesso è perché difesa personale non ne hai mai fatto e quindi ti mancano gli strumenti per valutare a fondo gli elementi che ti verranno proposti. Chiaramente più pratichi, più ti rendi conto, però se vuoi avere un indirizzo veloce, molto smart, te ne do uno. Prova una lezione e delle tecniche che ti spiegano valuta se in 15 minuti riesci a capire di che si tratta. Non necessariamente ad avere una grande performance, ma a capire che movimento devi fare, a capire in che modo puoi utilizzarlo. Se ti richiede molto più tempo o se quello che hai a fine lezione è un gomitolo invece che una serie di sequenze, probabilmente non stai facendo la difesa personale che fa per te. Non vuol dire che è sbagliata come difesa personale, semplicemente probabilmente non fa per te. Quindi in definitiva, regola molto semplice, prova una lezione e verifica se ti stai portando a casa qualcosa, anche una singola piccola cosa. Se questo non succede, è un po' come entrare in un negozio, comprare qualcosa e ricevere solo campioni omaggio. Non proprio il massimo. Chiaramente è un argomento particolare. Magari mi sto sbagliando, magari no. Questo personalmente è il sistema che io utilizzo per valutare gli istruttori da cui vado a formarmi in altri ambiti. Fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti, iscriviti, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato e infine condividi. La conoscenza è l'unico bene che puoi condividere senza rimanerne mai accorto. La conoscenza è l'unico bene che puoi condividere senza rimanere aggiornato. La conoscenza è l'unico bene che puoi condividere senza rimanere aggiornato. Grazie.